Bimbi non vaccinati a scuola, scadeva oggi il termine ultimo per la regolarizzazione e non si segnalano particolari problemi nei nostri istituti scolastici. Ricordiamo che per i piccoli non in regola ad oggi si chiudono le porte di asilinido e scuole materne. La legge prevede invece una sanzione per quelli che frequentano le scuole dell'obbligo. Abbiamo sentito gli assessori competenti per i tre principali centri del VCO. Nessuno è rimasto fuori, chi non era in regola si è ritirato per tempo, non ha iscritto il bambino, riferisce l'assessore omegnese Sabrina Proserpio. Nessuna segnalazione da domodossola, spiega il collega domese Daniele Folino. Non ci risultano rifiuti, nidi e materne verbanesi, aggiunge l'assessore Danilo Minocci. A livello locale il gruppo Novax conta 227 famiglie tesserate residenti nel verbano Cusiossola ma anche nelle zone di Arona e Borgo Manero. Intanto il referente per le attività vaccinali dell'Asla VCO, il dottore Edoardo Quaranta, spiega che sono state raggiunte ottime coperture nella fascia 0,6 anni, quasi sempre oltre il 95% che rappresenta la soglia dell'immunità di gregge. E quando non si arriva a questa soglia è questione di decimali, precisa Quaranta. Lo stesso aggiunge che da molti mesi la macchina vaccinale per questi utenti si è messa in moto, gli ambulatori della nostra azienda sanitaria si sono organizzati in tempo permettendo a tutti di vaccinarsi quando lo desideravano, evitando code. Intanto i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute parlano di un aumento nei primi sei mesi del 2018 delle coperture vaccinali dei bambini in Italia rispetto ai dati del 31 dicembre 2017. In diversi casi è stata raggiunta e superata la soglia minima raccomandata dall'OMS, il suddetto 95%. Risulta da una rilevazione di medio termine effettuata appositamente per valutare l'impatto della legge sulle vaccinazioni obbligatorie nelle corti di bambini nati negli anni 2015, 2014 e 2010.